Salta l'ipotesi del prolungamento pomeridiano del mercato settimanale del Giotto. Rinunciare, non senza però un po' di delusione, sono gli stessi ambulanti dopo che il Comune di Arezzo ha disposto come orario massimo di chiusura le 17, così i commercianti esporranno regolarmente dalle 8 alle 13, ma senza allungare l'appuntamento con la clientela per tutta la giornata. La limitazione, dichiara il presidente provinciale Anva Confesercenti Roberto Toti, impone agli ambulanti di rinunciare all'iniziativa. Ai commercianti servono infatti lunghe operazioni di smontaggio necessarie a riporre la merce nei furgoni. In pratica così i commercianti sarebbero non operativi dalle 15.30, proprio quando inizia il passeggio pomeridiano della clientela. Infine arriva una stoccata all'amministrazione cittadina. Dal sindaco, aggiunge il presidente, ci aspettavamo un trattamento simile a quello delle attività della ristorazione, alle quali è stata consentita la chiusura di molte strade del centro storico, per permettere la pedonalizzazione in modo da poter apparecchiare strada. Per noi, purtroppo, non c'è stata questa volontà. Da parte loro, gli ambulanti, all'amarezza di veder vanificato un'opportunità lavorativa, rispondono con la generosità di una donazione all'ospedale San Donato. I soldi raccolti tra i colleghi, oltre 600 euro, che sarebbero stati utilizzati per la promozione dell'iniziativa, conclude Toti, abbiamo deciso di donarli in beneficenza.